Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 8 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni di nord-ovest e su quelle che si affacciano sul terreno avremo condizioni di instabilità diffusa con possibilità di piogge e rovesci. Mentre sulle regioni adriatiche e sul sud in genere avremo condizioni di tempo stabile accompagnato dalla presenza di molte nubi. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile ma accompagnato dalla presenza di molte nubi. I cieli risulteranno infatti nuvolosi o poco nuvolosi lungo la fascia costiera mentre risulteranno generalmente coperti nelle zone interne. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno un aumento di nuvolosità su tutto il territorio con i cieli che andranno a risultare scoperti su gran parte della regione. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. L'attenzione e al prossimo aggiornamento.